Nuovi cartelli bianchi e rossi indicano le vie da percorrere e le tempistiche del sentiero del Postino in Val Boreca. L'ultimo portalettere percorreva queste vie per raggiungere i villaggi sperduti. Oggi numerosi appassionati di escursionismo riscoprono le aree rurali grazie al sentiero, che consente di visitare i minuscoli borghi immersi nel verde della natura, quasi incontaminata. Siamo in un'area appenninica divisa tra quattro regioni e quattro province, Piacenza, Pavia, Genova e Alessandria. Il giro completo è un anello di 17 chilometri e oltre mille metri di dislivello. Servono più di sei ore di cammino per ammirare alcuni borghi come Artana nei pressi di Zerba, Belnome, Pizzo Nero, Suzzi e Bogli. Una ventina di volontari del CAI di Piacenza ha da poco completato il lavoro di pulizia e ripristino del sentiero, un'attività durata quasi un anno, rallentata dal lockdown e dalle abbondanti nevicate di quest'inverno. Su questo sentiero ci siamo occupati di una sfalciatura dell'erba all'inito dei paesi dalle parti di Artana, Bogli. Siamo occupati di togliere un po' la vegetazione più intestante che chiudeva il sentiero. L'abbiamo reso un po' più percorribile, spostato qualche massimo sul sentiero. Con la posa dei nuovi cartelli, i lavori finanziati dal comune di Ottone si sono conclusi nei giorni scorsi.